Infiltrazioni, pezzi d'intonaco e cornicione che si staccano e acqua che dalle grate arriva ai padiglioni sotterranei del cimitero centrale di Fano. Tanti disagi e problematiche che i cittadini da anni a questa parte lamentano sia per quanto riguarda il decoro di un luogo così importante e delicato, sia per la sicurezza di chi si reca a visitare le tombe dei propri cari. Per questo motivo, fa sapere l'assessore alla qualità urbana Fabio Latonelli, da metà febbraio partirà la progettazione per la riqualificazione del cimitero centrale, che includerà anche l'area in cui quest'estate si era staccato dell'intonaco e che tuttora risulta pericolante. Il cimitero urbano, ci sono delle problematiche che conosciamo, sono state segnalate più volte ai nostri uffici, quindi ci sono in condizioni meteo un po' più estreme, entra dell'acqua all'interno di qualche padiglione. In altri abbiamo notato dei distaccamenti dei cornicioni o comunque di alcune aree, sempre all'interno di alcuni padiglioni, che infatti abbiamo prontamente transennato e messo in sicurezza per l'incolumità dei cittadini. Però nella programmazione del piano trinnale e delle opere ci sono comunque destinate delle risorse per poter sistemare il cimitero, i cimiteri, in questo caso il cimitero urbano. Come risposta immediata posso dire che da metà febbraio inizieremo la progettazione per risolvere definitivamente questi problemi che vanno fuori dall'ordinaria manutenzione ma saranno un oggetto di interventi di straordinaria manutenzione perché appunto non sono piccole problematiche ma dobbiamo intervenire in una maniera un pochino più strutturale e radicata. Quindi partiamo con la progettazione, cerchiamo di capire l'importo complessivo quant'è per poi gradualmente andare avanti a finanziare e fare il lavoro. Insieme anche all'assessore Cucchiarini che è la delega ai servizi cimiteriali siamo d'accordo per poter fare questi interventi che sono diventati abbastanza urgenti. Grazie a tutti.